ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video nuova prova di una power station medio piccola fossi bot un altro prodotto questa si chiama f12 dunque se avete visto i video delle varie fossi bot che ho fatto le ho fatte praticamente tutte compresa l'ultima f36 pro che appena uscita espandibile eccetera guardatevi il video la 2004 la effetto 100 quella piccola e quella media l'abbiamo provata mancava questa diciamo che ha un taglio che si mette proprio a metà strada perché ci dà in uscita 1200 watt di potenza si chiama appunto f12 e un kilowattora di accumulo tondo tondo quanto costa costa sul sito ufficiale gig boom in 460 euro su amazon circa 500 euro apro una piccola parentesi qualcuno mi ha mandato dei commenti che ha avuto problemi nel comprare prodotti su questi siti che vendono solo online che sono all'estero fondamentalmente e che fanno capo a delle aziende cinesi questo sito gig boom di tutti quelli vi posso dire che il più affidabile sicuramente però attenzione non è come comprare su amazon o come comprare da rivenditore nel negozio fisico è chiaro che in situazioni di garanzie problemi eccetera dovete avere molta pazienza perché vanno mandate delle email vanno spediti prodotti a volte non le ritirano dovete spedirli voi a volte non funzionano le procedure automatiche di paypal bisogna gestirsi direttamente col venditore insomma state comprando online da un sito fondamentalmente di prodotti e di servizi cinese tenete conto di questo poi gig boom è molto affidabile la roba vi arriva se ci sono problemi della cambia però non è come telefonare al rivenditore di guarda che non funziona te la porto te la fai cambiare ok chiusa parentesi prodotto che costa comunque poco perché a 500 euro abbiamo 1200 watt e un kilowatt di accumulo che ci consente di fare già diverse cose non starò a fare un video troppo tecnico eccetera perché se prendete la f800 questa è un po più grossa e costruita diversamente però alla fine io di station non so più cosa farvi vedere sono fondamentalmente tutte uguali soprattutto quando sono modelli diversi dello stesso produttore non è che c'è da provare chissà cosa quindi vi farò vedere adesso lo spacchettamento l'analizziamo tutta quanta vedremo i dati tecnici la mettiamo in carica facciamo un po di prove insomma tutte le cose normali e poi cosa ho fatto me la sono portata in ferie in camper perché l'ho usata l'ho provata ci ho alimentato il camper ho tolto la mia pure station principale ho messo questa per le vacanze insomma tutto normale però vi dico una cosa tante volte mi chiedete se vanno ad esempio bene per i condizionatori eccetera guardatevi il video che ho fatto del condizionatore portatile in camper perché ad esempio quel condizionatore portatile con questa f12 lo vedete in quel video non ce la faceva a partire dategli un occhio così capite meglio di cosa stiamo parlando e di cosa ci potete fare andrei avanti col video ma prima mi raccomando è gratis non costa nulla se vi iscrivete al canale mi fate un grosso favore a mi aiutate a crescere ci mettete due secondi non vi costa nulla vi ringrazio per questo buon video ok fossi bolt f12 dalla scatola vediamo già che l'imballo e 440 per 3 10 per 4 20 e che pesa 15 kg come al solito anche con fossi bot abbiamo scatola dentro scatola esterna quando arriviamo alla scatola interna vediamo già l'anteprima del prodotto con un case diverso dal solito ma con qualche caratteristica a cui siamo abituati versione europa questa è la colorazione onda pura doppia ventola di raffreddamento sistemi di sicurezza ci mette un'ora e venti minuti a caricare l'accumulo interno da un kilowatt da 0 a 100 un display da 4.4 pollici molto grande avviso di batteria bassa un battery management system un bms integrato e una capacità totale di 1024 watt ore le caratteristiche tecniche le vediamo meglio dopo nella parte alta troviamo una protezione il manuale con l'italiano come ci ha abituato di recente fossi bot e questa pratica pochette con una sorta di maniglia regolabile per agganciarlo portarla in giro comodamente sempre del tipo idro repellente marchiata fossi bot vediamo cosa ci danno in dotazione allora cavo di ricarica diretta spina asciuco ingresso 220 e poi abbiamo classici xt 60 ingresso mc4 cavo non molto lungo non molto spesso le potenze in gioco non sono altissime abbiamo anche il cavo di ricarica i connettori sono buoni non hanno il rinforzo sulla piega però tutta la parte gommata sembra abbastanza robusta spina accendi sigari non abbiamo altro protezione superiore molto molto abbondante e troviamo poi subito la power station che tiriamo fuori agevolmente dalle due maniglie eccola qui un form factor diverso dal solito perché sulla parte lunga non abbiamo comandi o display da questo lato abbiamo le due ventole plastica grigia non croccantissima abbastanza buona logo fossi bot su questo lato abbiamo la luce ingresso 230 volte ingresso xt 60 pulsante di reset in caso di anomalia sulla rete di alimentazione due prese sciuco in uscita con il pulsante di attivazione lampada a bordo con interruttore vedete queste ampie maniglie dove abbiamo il colore che viene ripreso questo verdino è uno dei colori che usa molto vendere fossi bot grigio in contrasto col verde lime sull'altro lato lungo niente non due ventole ma due griglie perché in realtà abbiamo un doppio sistema di ventilazione ma con una griglia per lato in totale sono due sulla parte superiore non abbiamo la ricarica wireless abbiamo questo piano d'appoggio zigrinato misto lucido opaco l'altro lato corto sarebbe la parte frontale con il display il selettore per la ricarica 200 400 600 800 la parte usb con due usb acqui charge 3.0 una power delivery da 20 watt e una power delivery da 100 interruttore generale accensione della parte in dc abbiamo anche l'uscita accendisigari sotto la macchina abbiamo le caratteristiche f1200 watt in uscita ricarica da c massimo 1000 watt usb acqui charge 3.0 18 watt usb c da 100 led da un watt uscita a c appunto da 1200 watt 1024 watt ora un kilowatt di accumulo 40 ampere ora a 25.6 volt ingresso dc quindi l'MPPT come tensione accetta da 11.5 a 50 volt massimo 200 watt l'altra usb c da 20 watt l'uscita accendisigari 12 volt 10 ampere e appunto l'uscita c che 220 240 50 60 hertz qua c'è il seriale della macchina tutte le certificazioni vero marchio c'è sul fondo abbiamo poi quattro ampi piedini in gomma accendiamola abbastanza scarica questo sembra il vecchio display della f36 prima versione semplicemente abbiamo l'indicazione dell'ingresso non divide a c e dc l'indicazione dei watt in uscita è già impostata a 50 hertz non divide a c e dc possiamo accendere le usb e viene notificato dal simbolo della usb type a possiamo accendere la parte in dc e viene indicata l'accensione con il simbolo dell'accendisigari possiamo accendere dietro la parte a c viene indicata dal simbolo qui con l'alternata accendiamo anche la lampada che viene indicata dal simbolo della luce ci spostiamo sul retro spegniamo la ac lampada che fa le varie modalità fino a spegnersi purtroppo trovo scomodo che sul retro dove abbiamo le due prese per l'uscita c quando attiviamo disattiviamo non abbiamo nulla che ci segnali se sono acceso o no bisogna guardare dall'altra parte spegniamo un po di uscite quindi spegniamo la dc spegniamo l'accendisigari e spegniamo la parte a c la metto in carica abbassiamo subito a 200 watt come al solito abbiamo poi lo step 400 watt ci mette un attimino a prendere il comando poi però questa cosa mi piace sale gradualmente impostiamo 400 si attesta a 402 impostiamo 600 aspettiamo sempre un attimino che il regolatore cambi sale un po più rapidamente si attesta a 602 impostiamo 800 e si ferma sempre a 802 impostiamo 1000 e ci attestiamo a 1200 watt ora la faccio caricare in modalità lenta se non avete fretta è sempre il modo migliore per caricare la batteria della power station la lascio arrivare al cento per cento poi iniziamo a fare le prove ok ho provato nel mentre ad alzare l'ingresso mille watt sentite che sono partite le ventole non sono proprio silenziose hanno appena aumentato siamo adesso a 62 db a sinistra e vedete quasi 67 sul lato destro quando inizia a scaldare come in questo caso dove sta caricando mille watt le ventole un po rumorose diventano ok volevo solo farvi vedere che nella fase finale quindi dall 85 per cento in poi carica a meno di 100 watt questo per tutelare la fase finale della ricarica molto buono si può caricare con più sorgenti si intanto vediamo che qui stiamo entrando con una novantina di watt tramite l'ingresso mc4 questo è un pannello da 435 watt biglifacciale che ho in giardino ma purtroppo la giornata vedete è quello che è quindi stiamo caricando a circa 90 watt che comunque va bene cosa succede se imposto il limite a 200 watt e gli diamo però anche la rete in questo modo vedete che ha accettato anche la rete allora mi vede l'ingresso a 220 watt 230 sta salendo perché praticamente sta sommando i 200 watt impostati da manopola più i 90 che arrivano dal pannello mettiamola al massimo vediamo cosa succede mille ok vedete che sale piano piano quindi non di botto il che è una buona cosa sale 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 600 660 700 mi piace sempre quando salgono con calma perché chiaramente se no è deleterio per la batteria e vedete che riesce a sommare esattamente quello che gli entra dal fotovoltaico più i mille watt che abbiamo impostato da rete fa la somma molto bene ok volevo ancora farvi vedere che il massimo dell'ingresso che tira dal solare dall'ingresso dc 200 watt poi oscilla circa 200 eccetera in questo caso stiamo buttando quasi 40 volt sta tirando 5 ampere se abbasso la tensione 30 volt 29 7 vedete che tira sempre solo 200 watt sale la corrente ma il massimo che può tirare è sempre comunque 200 watt vi ricordo di rispettare il limite massimo di 50 volt ma questo vuol dire che praticamente potete attaccare qualsiasi pannello in circolazione anche di quelli fissi grandi da casa perché mediamente arrivano tutti sui 40 45 volt al massimo adesso vi faccio vedere una roba particolare che mi chiedete spesso per quanto riguarda le e bike allora tante volte mi chiedete se con una power station si può caricare una bici elettrica chiaramente dipende dalla bici e dalla power station però tendenzialmente prendiamo questa che adesso completamente scarica non vedete che segna una tacca ma in realtà prima lampeggiava quindi è finita allora spegniamo la bici il connettore di ricarica è già collegato abilita l'uscita parte il caricabatteria che va in carica intanto vediamo cosa consuma consuma circa 110 watt sta caricando vediamo col kilowatt di questa power station quanto riusciremo a caricare questa batteria come detto prima è chiaro che dipende dal pacco batteria e dal pacco della power station è una questione di batterie una ricarica l'altra se questa è più grande di quella o viceversa otteniamo o meno la ricarica al cento per cento poi il passaggio non è proprio quello però per darvi un'idea alla carlona il funzionamento è questo comunque il caricabatteria funzionano con la power station si con tutte le power station perché sono elettronici vediamo ad esempio in questo caso quanto riusciamo a caricarla ok batteria full luce verde power station che è arrivata al 14 per cento quindi abbiamo fatto fuori l'ottantasei per cento di accumulo su un kilowatt ora per caricare una batteria da 15.6 ampere ora che sono 561.6 watt ora i conti non quadrano perché in mezzo c'è chiaramente il consumo dell'inverter e la trasformazione a 230 volte per poi essere di nuovo ridotta sulla tensione che carica la batteria però con una power station del genere una batteria come questa la carichiamo ma facciamo solo un ciclo e magari una piccola bottarella allora come si comporta invece in modalità ops adesso lo sto usando nel camper vedete io il quadro con il commutatore per la power station questa è diretta sull'esterno tutto il resto in questo caso è alimentato dalla power station in modalità ops lui praticamente prende il valore impostato diciamo sul selettore di ricarica più quello che chiede in uscita quando arriverà al cento per cento vi farò vedere che rimane al cento e prende in ingresso quello che c'è in uscita chiaramente se io alzo la potenza di ricarica e la porto a 400 di conseguenza prende sempre in modalità ops i 400 più quello che ha bisogno in uscita per fare il bypass in modalità ops questo è il comportamento del selettore con la rete attaccata e il carico in uscita esattamente così vedete che abbiamo raggiunto il cento per cento quindi va in modalità ops quello che esce entra ok chiaramente power station che mi sono portato dietro in camper per alimentare un po di roba sapete che io ho tutto il quadro di distribuzione in questo momento al caricabatterie del furgone attivo il frigo acceso e verde presenza rete o tutta la cellula alimentata vedete che un simbolo del 230 volt e sto consumando 135 watt l'autonomia è quella che è però se riusciamo ad esempio a portarci un 12 volt per caricarla mentre viaggiamo se riuscite a ottimizzare i consumi carichiamo a 100 watt e se riuscite magari io in questo caso se sta col caricabatterie scendo a circa 70 80 watt di frigo allora siamo in positivo e possiamo tenere per esempio il frigo a 230 volt alimentato andando ancora in guadagno riuscendo a tenerla carica molto comoda in mobilità perché piccola si porta facilmente quindi anche in completa natura con alberi tende possiamo gestire un piccolo ufficio mobile perché con un portatile il suo caricatore abbiamo ad esempio 40 50 60 watt di consumo quello che è ma abbiamo chiaramente molte molte ore di autonomia e nel mentre possiamo magari ricaricare il telefono le power bank tutto quello di cui abbiamo bisogno bene test finito la power station va bene vi ho detto che l'ho portata con me un po di tempo si è comportata benissimo con i limiti che può avere una power station da 1200 watt l'ingresso solare abbiamo visto che funziona l'ho usata sia col pannellino del camper che caricandola in piazzola insomma con la manopola le fossi bot sono molto comoda in piazzola perché anche quando avete solo pochi ampere riuscite comunque a caricarla e avete poi mille e passa watt a bordo questo è tutto un altro prodotto molto interessante trovate tutti i link in descrizione eventuali codici sconto eccetera io vi ringrazio bel like scrivetevi noi ci vediamo al prossimo video prossima diretta di giovedì sera o se passate il negozio in provincia di torino vi offro un caffè ciao a tutti da massi dattoli ciao a tutti ciao a tutti